Ok siamo ritornati Riprendi? Oh con credito Entrambi Sì siamo Bruttamente sembra fatto Nel 2000 Il terzo era nel 2019 Ma Goldman non era la nostra pagina Non so niente chi è Goldman Quello lì con il conto deve essere un po' di amebraio Non è un cognome deficiente è una cosa d'oro Uomo d'oro tu che cazzo c'è da? Ma che cazzo c'è? Mamma mia che testa che c'è Io Che amigami Ora fiori Perchè siamo fiori lì? Perchè siamo un coso giapponese Usale Stiamo facendo Siamo tanto fiori Siamo tanto fiori A me non mi sembra C'è dai robot Sì dai zombie siamo passati ai robot Perfetto Figo Non ho capito bene perchè siamo passati dai robot Dai non dai robot Ma va va a far più muori Ma questo vera Cazzo sta male James Che ferito gravemente Ezio Cacca abbiamo le granate perchè non le abbiamo neanche usate contro il boss di prima Io le avevo finite Io le faccio anche uno Noo Siamo al boss finale Gli sprechi Oh vabbè Così Vabbè Cos'è te No è Ehm 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 Ma basta prendere me merda Ma cazzo sei male Ehm Ehm Sali sal 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 toia Godman Ehi di sopra Ho detto l'ebreu da D'ogosto Che senso ha Cioè Non ha senso Ma è vero Cos'hai fatto una scientifica Una 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 Ma vedi a cosa hai fatto? una ricerca scientifica ah ma ma che figa perchè c'era uno che si chiamava Godman aspetta aspetta scimmie ah perchè iniziano ad eravamo zombie eravamo delle scimmie mettila il batter che bello il pavimento dai illumina il luce è Gesù adesso esce il Gesù ma cos'è? cos'è il boss? oh no me lo ricordo che schifo è orribile adesso lo vedi boss per la prima volta è orribile ma che è orribile? a me sembra roba eterea questo è Godman Godman the world tipo sconosciuto che schifo che chifo che cazzo è è tipo una falina no? l'avatar del mondo l'avatar è orribile cos'è il Tornot? ah no falina si quello di mistero ma ti voglio il genio al cuore 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 al cu Facciamo il vostro finale, Jimmy Nuto. Facciamolo... Una fallina? Spara ghiaccio. Ok. Vedete? Ma dove cazzo si fa? Eh, vabbè. Oh, dove sto sparando? Mi sbaglio sempre quel tempo. Intanto il vostro... È bello che il vostro notare fa tipo dei momenti silenziosi. Cioè, ci sono dei momenti che spara ghiaccio. Come si fa a distruggere quell'ascia? Ci devi sparare soltanto. Quante volte? Qui che non vedi che la barra va più tardi. È babbo Natale arriva domani. Ti aspettavo... Parra, 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 parra. Siamo tutto dicendo... Ok, bene. Ci ho salvato il culo un'altra volta. È babbo Natale arriva domani. Cioè, ma quel che bisogna sempre finire in questi monodi qua? Da fumarti. Come da fumarti? Non è da fumarti? Ti ho detto, se ne sono... I creatori di sto gioco se ne sono sognato di volte. Allora, facciamo se una palena... Una palena è bianca. Sembra un buon via sul conto. Dai, dai che... Dai che è morto. Mi sembra bello, dai. Ma capitana, è semplice? Non è facile da scontruggere. Ma io... È peggio il ciccione. Il ciccio bastardo superare un... Prezzerà sempre nel nostro rinforzo. Per sempre, forever. And ever. Dai che è morto, dai che è morto, dai che è morto. Sì, è finito. L'ho stesso io! Non c'è tuo cazzo. Wiii! Voglia! Boom! Vada! Non è una seconda vita, vero? Che non me lo ricordo. Adesso vediamo. Perché non mi sembrava così? Che è una seconda vita. Porca puttana! Non me lo ricordavo. Sembrava troppo facile. L'ho finito quando ero piccolino. No, quando ero piccolino. No, ma 3-4 anni fa. Non me lo ricordo neanche più. Che cazzo. Vabbè, adesso incazzurro. Vabbè, danno te nelle ali. Super se sai gli uomini, là. Questo cazzo di problem... Oh mio... Eh, vabbè. Fara, stara, stara. Dobbiamo distruggere. Dai che ghiaccio. È facile da distruggere quel cazzo che faccio. Ganata! Usiamo la ganata. Dai, dai. No! Fermo! No, no, no. Non è servito un cazzo. Eh, vabbè. Lui ha piùciato. Oh. Tu spara al tuo lato perché sennò... Coglia. No, ho finito le ganate. Anche io. Eh, è peggio ancora. Abbiamo finito i crediti. Oh! Ah sì? Ah sì. Dovremmo ricominciare. Ma non li faccio ne che... Addio! Vabbè, io so dove morire. Tanto adesso crepo. Bruto magrebo di merda! No! No! Ma che cazzo? Nella nostra strada. Guarda, 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 guarda che veloce! Guarda, guarda che veloce! E la toglia. Ok, alla fine ci siamo formati. Troia. Chi spistola. Come la c'è spistola? Sentitevi, peccatori! Sei una merda, lo sai. Ragazzi, noi torniamo subito. Vediamo se si può fare in qualche maniera l'ultimo livello. Ma, ok, 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 stiamo studiando come le po. No, io no, no, neanche io, non ho detto così, da dovevo farlo, ecco che si incazza. Diventa super sognato. Oh, yeah, si, ragazzi, that's, yeah, 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 sì, vabbè. Allora, all'è un Kongo, ok? Diciamo... Che, perché sembra una vagine. Perché... Non è vero, non è così, eh, vabbè. Un morso di cattiveria. Ok, vabbè, vabbè. Non si sta facendo un cazzo! poi quando si è messo ok mi è servito un cazzo non è servito un cazzo perchè ci scrivi la città d'arma perchè dovevi caricarlo no allora no sono col bomb allora mi sono cazzata ma perchè me addio agosto è stato bello hai sprecato una mollettina brutta che cazzo fa ok tu teni la tua perchè solo così ce la facciamo dai che non è così potente dopo aver detto queste parole ci farà il culo con qualche altra nuova mosso va bene questo non riesco a spaccare come cazzo è possibile guarda che gli stiamo facendo più danno guarda insieme ti dico nessun punto debole e a fine se è sempre spesso crudo e bisogna sparare non incorciare i flussi vabbè qua solo la bocca gli fa male se ci hai fatto caldo vai dai spartare che se hai moglie a te vabbè come cazzo faccio a caldi la bocca adesso ci uccide io boss mi sparavi quasi tu mi aiutavi a spararmi ti stavo sparando io sei tu che l'hai mancato no l'ho preso io balotta aspetta 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 solo quando scelgo mamma mia sei tu che l'hai mancato tutto qua io mi aspettavo non è che fa un'altra evoluzione tipo esce da un'altra partaglia stai zitto adesso lo fa toh ma stai zitto stai zitto toh ma che schifo porca puttana è convinto sempre una dietro l'altra che schifo no perché non sono stato zitto non finisci mai i colpi tu vero non finisce più di ricaricare ora ma tu no no ghost boom baby da dove è uscito quei raggioli ma io sono qua scemo sento ancora la tua voce ma chissà come mai perché c'è ma quei due cinesi di prima che stavo parlando no no cinesi di prima del 2000 che stavano parlando con goldman che fia hanno fatto va bene io oh no va bene ok io non ho capito bene della storia forse mi sono perso qualcosa perché è uscito un raggio dal cielo così stile in dragon ball dal culo a me lo qua i nomi sono scritti con lettere normali su end war che è fatto dalla ubisoft shanghai è scritto tutto con i cosi cinesi l'unico nome che si riesce a leggere con il produttore indovina che paese è non lo so italia russo sega ah non è finito vediamo la ribellazione bravo spaccato verso le montagne dobbiamo viaggiare andiamo skyrim come in te che cosa ti ho detto io ti ho detto che questo qui viene prima di quell'altro ah sono sempre stato ma tu sei sempre stata la nolla che cazzo è successo cosa mi sono perso vabbè è uguale quindi io però la penitenza non succede perchè mi fa il culo che cazzo è successo non ci sto cambiando pure la secca ma sei tu che comunque sei stato per aria ma perchè quando mi ritorno e quando guidavi te c'era oh mio dio non ci capisco più la secca ok si basta c'è qualcos'altro ok io ragazzi non ci ho capito veramente la secca quindi vaffanculo forse faremo il terzo ah forse quando di tanto sai ha scambiato le menti che merda non voglio il tuo cervello aspetta che mi apro la testa va bene ragazzi alla prossima devi salutare oh mio dio oh 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 oh